Resta a casa. Programma la tua giornata in casa facendo esercizio fisico e mantenendo l'ambiente pulito. Esci di casa solo per esigenze di salute, per lavoro, per fare la spesa. Evita i contatti a meno di un metro. Lavati spesso le mani. Se hai sintomi simili influenzali, resta a casa. Contatta il medico di medicina generale, la guardia medica o i numeri regionali. Se puoi, aiuta i tuoi vicini che si trovano in difficoltà. Le violazioni alle disposizioni contro il Covid-19 mettono in pericolo la salute di tutti e sono reati. Dimostriamo di essere un grande paese. Facciamo tutti la nostra parte.